Chi avrebbe potuto assolvere quel ruolo? Nessuno. Ci voleva un uomo che fosse assolutamente nuovo alla politica e Berlusconi era assolutamente nuovo alla politica e nello stesso tempo abbastanza popolare. Berlusconi era molto popolare anche per la qualità delle sue imprese. Certo. Era il presidente del Milan. Che allora era una squadra che stradiceva. Era una squadra che lui fece ancora più grande. Era il padrone di tre reti televisive che naturalmente lo tenevano sul proscenio. Aveva giornali, riviste, eccetera, eccetera. E poi era un uomo simpatico. Era un uomo simpatico, un uomo dall'approccio estremamente facile. E quindi lui aveva tutte le caratteristiche per presentarsi nello stesso tempo come uomo nuovo e già conosciuto. Ecco. Quindi... Però detto questo, lei dice questo, che non ce n'era un altro di uomo, però lei si è opposto all'ingresso di Berlusconi in politica opposto. Fino al punto di litigarci. Quali profezie lei fece allora per sconsigliarlo e come si sono avverate? No, no, dunque opposto. Io non avevo nessun titolo per oppormi alla volontà di Berlusconi. Certamente. Però fu contrae. Io disapprovai questa volontà e gli dissi che non mi sentivo di mettermi al suo servizio. E gli dissi che secondo me commetteva un gravissimo errore a entrare in politica perché prima o poi l'incompatibilità tra interessi privati e interesse pubblico sarebbe venuta al pettine. Lui di interessi privati era oberato fino alla tetta. Ne aveva in tutti i campi. Forse nessun imprenditore ne ha mai avuti tanti. Sì, perché l'uomo ha una versatilità straordinaria e io gli dicevo un uomo politico non può entrare in una personalità, una personalità imprenditoriale, non può entrare in politica con tutti questi interessi a cui deve badare. Suscita immediatamente il sospetto. Non lo può fare tantomeno un uomo che intende rappresentare la destra perché la destra in Italia ha tutt'altra tradizione. Quintino Sella, quando fu fatto ministro, vendette immediatamente la sua azienda tessile e mise il ricavato in buoni del tesoro. Altrettanto fece Sonnino. Quando fu fatto ministro degli esteri, Sonnino era un uomo molto ricco, immediatamente vendette tutte le sue interessenze sul monte Amiata, sui metalli e sulle miniere del monte Amiata, mise anche lui tutto in buoni del tesoro, questi si presentarono con le mani pulite e insospettabili. Nessuno ti toglierà dalla testa il sospetto che tu entri in politica per facilitare o difendere i tuoi interessi privati. Questo prima o poi verrà al pettine. E gli dissi, io non mi sento di seguirti in questa avventura, quindi noi dobbiamo separarci. fu una separazione consensuale fra me e Berlusconi. Il patto su cui si reggeva la nostra convivenza e che era stato scrupolosamente osservato da tutte e due le parti, la sua e la mia, era questo. Berlusconi è il proprietario del giornale, perché lo aveva regolarmente rilevato dagli azionisti, Montanelli è il padrone del giornale, quindi Berlusconi viene al giornale dove? Nell'ufficio amministrativo, perché è giusto che veda come vanno i sogni. Veniva lui o veniva il fratello? No, veniva, allora da principio veniva lui, però si fermava al secondo piano, io stavo al terzo, lui, poi noi ci vedevamo extra giornale, ma parlavamo di tutto fuorché del giornale, il giornale lo dirigevo solo io e lui mi disse, no, in questo momento io entro in politica, ho bisogno di un giornale che sostenga la mia battaglia. Siccome il giornale è mio, allora dico, scegliti un altro direttore, perché io al servizio, non è che non voglio mettermi al servizio tuo, io non voglio mettermi al servizio, non mi sono mai messo al servizio, nessuno perché mi devo mettere al servizio tuo, anche perché non credo alle tue fortune, li sbagliavo perché non immaginavo che appena sceso in politica questo diventasse. avrebbe stravinto fino a diventare presidente del Consiglio in un battibaleno. Ecco, ma lei Berlusconi quindi lo conosce bene? Sì. Ecco, quali sono le qualità e i difetti di quell'uomo, dell'uomo Berlusconi? Dunque, Berlusconi ha un sacco di qualità, cioè a dire ha una grande immaginazione, una grande fantasia, ha un coraggio leonino nel buttarsi nelle imprese, sa trascinare, sa trascinare molto bene, è un comunicatore eccezionale, sa accendere i suoi seguaci di entusiasmi, eccetera, eccetera. Mi ricordo che una volta gli dissi io sono sicuro che se tu ti mettessi a fabbricare dei vasi da notte faresti venire la voglia di far pipì a tutta l'Italia. Ed è vero, lui si divertiva a queste battute, ed è assolutamente vero, ma è anche vero che lui non ha tutte le qualità che occorrono alla politica. Lui è uomo di potere? Lui non è uomo di potere. Il potere poi a un certo momento gli è piaciuto evidentemente, ma prima non aveva mai dato il senso dell'uomo di potere. Lui è un uomo d'attacco. Ecco, se avesse fatto la carriera militare, lui non sarebbe diventato né un Rundstedt né un Manstein, che furono i grandi strateghi tedeschi dell'ultima guerra. Un generale Patton. Lui sarebbe diventato un Rommel o un Patton, cioè dire, è un generale di slancio e di rottura che appunto sullo slancio può compiere qualsiasi cosa. Se lo metti poi a difendere le posizioni conquistate con lo slancio, e no, lì non ci sta, come Rommel. Rommel finché poteva attaccare in Libia e in Egitto, attaccò. Quando dovette mettersi sulla difensiva, chiese il rimpatrio. Poi non è uomo allora di stato maggiore. Non è uomo di stato maggiore, lui è un trascinatore. Non sarebbe un uomo di curia. Non sarebbe un uomo di curia, non è un uomo di pazienza, non è un uomo da guerra di posizione e di logoramento. Ecco perché, mentre ha dato il meglio di sé nella prima fase della sua vita politica, la conquista è un po' imbarazzato e malaccorto. Ma lui vinse grazie alla televisione? Non si può dire che vinse grazie alla televisione, ma certamente la televisione lo aiutò moltissimo. Beh, questo è evidente. Lo aiutò moltissimo, quindi lo aiutò a renderlo popolare e lui aveva delle qualità. Lei che naturalmente, anche se non lavorava più al giornale, ha fondato un altro giornale, La Voce, e continuava a seguire la politica, quali furono gli errori principali, secondo lei, di Berlusconi, più gravi errori, mentre era a Palazzo Chigi? Ce ne fu uno fondamentale. Lui arrivò a Palazzo Chigi, credendo e facendo credere che uno Stato si poteva condurre con gli stessi criteri di un'azienda privata. Io su questo avevo avuto serie discussioni con lui, non litigi, non ho mai litigato con Berlusconi. Gli avevo detto, guarda che lo Stato non è un'azienda privata. Ma cosa vuol dire Montanelli che confondeva lo Stato con l'azienda privata? Voleva licenziare usceri? Beh, certo. Certo, lui credeva di potersi comportare a Palazzo Chigi e con la macchina dello Stato come si comportava con la sua organizzazione dove la gente frullava e se non frullava lui la cacciava via. Com'è giusto che faccia un imprenditore? Ma lui non poteva applicare questi metodi e sistemi allo Stato quando si trovò di fronte alla muraglia grigia, sorda e ottusa, della burocrazia italiana che è la peggiore ma anche la più resistente del mondo e lui rimase senza armi e non poteva licenziare neanche un uscere. E che faceva? Forse anche il Parlamento lo impieva. E anche nel gioco parlamentare lui naufraga perché non è abituato a queste cose. La politica, non dico che sia solo un mestiere, ma è anche un mestiere. Questo mestiere lui non l'aveva.